Uniti insieme a te Faremo di America Ciao amici, siamo finalmente alla 32esima tappa Stiamo andando da Borgodale verso Chivasso Sono le prove generali della 100 km Anche perché abbiamo qua due personaggi allucinanti Il grande guerriero e il sindaco di Santiago abbiamo già visto Ora, la strada sarà un po' come? Sono abbastanza lunghe Ma è imperversa l'arca stritta Questo stradone fino a Cigliano Insomma, ci saranno parecchie macchine C'è molta viabilità Poi dopo da Cigliano passando da Villareggia È molto più tranquillo Il nostro guerriero che dice? No, serviamo di stare attenti sulle macchine Però del resto vuol dire che staremo in fila indiale Come i guerrieri, mi raccomando Vai piano sui dossi, le rotonde non tagliarle E se vedi un tombino evitalo Aia Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo dopo Ti ricorri e vai per gli ideali che hai Paura non avrai Del domani Cuore e dignità per un sorriso che sa Di fede e lealtà contro un mondo che Prende e porta anche l'amore che tu hai Insieme siamo liberi e forti per la vita Saremo il sogno che non avrai E come l'ombra che... Grazie a tutti Grazie a tutti